22 febbraio, giornata nazionale di lotta Notav, siamo qua con la mamma di uno dei Notav tuttora sottoposti a misure cautelari da alcuni mesi, come mai in piazza oggi? Ciao, sono qui in piazza perché è giusto che anche noi cosiddetti adulti pensiamo al futuro dei nostri figli, dei nostri giovani e del territorio. Non dobbiamo lasciare che siano solo i giovani a farsi avanti e a portare avanti questa lotta che è giusta, dobbiamo essere anche noi a fare qualcosa per noi, per quello e per il posto in cui viviamo è giusto. Grazie.